Stavolta il supplementare ha il sapore dolce, dolcissimo per Roseto. Resettato lo stop di sette giorni fa all'overtime, ma di fronte c'era la corazzata Fortitudo Bologna, contro Matera finisce 73-68, 61 pari dopo i tempi regolamentari. Partita alla Cardiopalma al Palamaggetti, non spettacolare, ma molto intensa, con i Sharks capaci di dilapidare 15 punti di vantaggio e con Rodriguez che ha avuto la tripla per vincerla. A Roseto dunque vanno due punti importantissimi, ma Mantova esce a testa alta, avendo disputato un match gagliardo con coach Finelli, bravo ad imbrigliare con raddoppi sistematici gli esterni locali. Tra le file rosetane superprova di Paul Leboa con 18 punti e 9 rimbalzi in 23 minuti di gioco, Sherrod fa l'ennesima doppia-doppia da 10 e 14. In doppia cifra anche Achele con 14 punti. Infine è stata anticipata alle 12.30 la gara in programma domenica prossima 20 gennaio a Cagliari.